E' quello che è un racconto, come due volte. Eccoci, sono così, il campione è completo. Il campione è completo. Ci siamo, quindi possiamo già cominciare con le previsioni, ma via Felice, Francesco, ci parlava lì, con la mia famiglia, con Francesco, per il tempo. Certo, partiamo dallo studetto capano cronometro, dalla categoria in gavuto maschile, chiamiamo Dell'Angelo Giuseppe, Cinotti Raffaele e De Gennaro Pino D'Ovrigo. Invitiamo tutti a fare un applauso, giustamente. La parola ha segnato, il palentato, il segnale, la parola è la parola. Oltre che essere finito, un applauso. Oltre che essere finito, l'applauso ovviamente deve essere spontaneo. Ricordiamo che Dell'Angelo Giuseppe, dell'ASD per il Cercandolo Ciclismo, è al terzo posto. Cinotti Raffaele, della Sprinter Bike, è al secondo posto. E De Gennaro, a primo posto, ASD, Team Ciclismo Sorrentino, al primo posto. Un'altra parola, Presidente. Grazie mille.